Ritorna anche questa settimana l'appuntamento con i libri tra le righe incontro con l'autore. Questa settimana siamo collegati via Skype come avviene ormai da diverso tempo con Marco Ronconi che ha scritto un libro edito da EFATA intitolato Tanta piccole storie di chiesa che non puoi non conoscere. Salve Marco, benvenuto. Buonasera e grazie dell'invito. Insegnante di religione a Roma, docente, scrittore artigiano così come si è definito. Un libro che devo dire mi ha colpito dal titolo prima che dalla presentazione e che nasce, ne approfitto perché me lo stava raccontando prima a microfoni spenti, da una serie di coincidenze. E approfitto anche per chiederle da quale desiderio, se c'è un desiderio è nato questo libro. Guardi, il desiderio è quello di offrire un po' di storie della nostra tradizione cristiana per poter offrire un po' di consolazione e un po' di sano realismo rispetto ad oggi. Siamo in un'epoca in cui tantissime nostre parole non funzionano più. Anche semplicemente questo collegamento via Skype, dobbiamo rimparare le pause tra le parole, dobbiamo rispettarci, avere pazienza. Stiamo rimparando tutta una serie di gesti che prima erano un automatico, salutare, parlare, mangiare, dormire, lavorare e anche al tempo stesso essere vicini gli uni agli altri, fare comunità. Sono tutte parole che oggi hanno improvvisamente cambiato significato. E penso che guardare la storia sia un modo consolante, ripeto, di vedere che in realtà la paura che ci prende quando ci sono dei grandi cambiamenti in realtà può essere un attimo mitigata vedendo che in realtà di cambiamenti ce ne sono stati tanti nella storia. E sempre c'è stato qualcuno che li ha vissuti riuscendo a rimanere fedeli a quel desiderio che è il cristianesimo, quel desiderio che è l'esperienza credente. Allora ho deciso di prendere una serie di storie che avevo incrociato nella mia esperienza di insegnante di religione ormai ventennale e me, nell'esperienza di collaboratore della rivista Iesus, dell'Elettrice San Paolo su cui mi chiedono di scrivere ancora da ormai anche qui quasi vent'anni e in tutte le altre esperienze di relazione educativa che ho avuto il piacere e la fortuna di instaurare. Ne ho raccolte 80 e le ho messe in questo libro perché mi sembra che abbiano tutte qualche cosa di consolante da offrire all'oggi. Bello, qualcosa di consolante da offrirci. Quindi immagino che sia stata anche un po' questa, questo uno dei criteri che l'ha portata a scegliere le 80 storie da riportare e da raccontare in questo libro. Sì, assolutamente sì. Nel senso che la verità, man mano che incrociavo qualcuno dei motivi di paura del nostro tempo accantonavo o sceglievo alcune delle storie che ho nell'hard disk del computer. Una di quelle a cui sono più legata, ad esempio, viviamo un tempo in cui l'altro, lo straniero, ci fa molta paura. E ho trovato un santo che si chiama Giovanni di Damasco, Giovanni Damasceno, che in realtà soltanto noi chiamiamo con questo modo perché il suo nome nella lingua che lui parlava era Yana Ibn Mansur ed era un cristiano che viveva alla corte del califo di Damasco in pieno Islam, ma che ha potuto scrivere e capire ancora meglio il Vangelo grazie alla protezione che il califo gli aveva riservato nei confronti dell'imperatore di Costantinopoli che era all'epoca il cristianissimo. E una delle principali accuse che si faceva a questo santo era di essere salaceno di testa, oggi diremmo di essere con la testa da musulmano. Ebbene, i libri di questo Giovanni Damasceno sono stati quelli su cui Tommaso d'Aquino ha fondato la sua Suma Teologia, che è il capolavoro forse inarrivato e inarrivabile della teologia cristiana degli ultimi duemila anni. Allora, quando incontravo la paura dell'altro e dello straniero, pensavo a San Giovanni Damasceno che appunto per tutta la vita è stato accusato di essere salaceno di testa, meno male che lo era. Protagonisti delle storie, la ringrazio per averne citata una, non sono sempre solo personaggi, lei ha scelto anche di raccontare il dialogo, il dovere dell'ospitalità, la cura del bene comune, citando anche laici, se così li posso definire, come ad esempio Schultz, padre dei Peanuts di Charlie Brown, scelta dettata da che cosa in particolare? Grazie per la domanda perché non ci avevo mai pensato, è vero, spesso cito Schultz, ma dovuto a un motivo meramente autobiografico, amo tantissimo i Peanuts da quando sono piccolo e trovo dentro ai Peanuts molti elementi che permettono di guardare la realtà trattandola per quella che è ma senza farsi troppo spaventare, cioè i Peanuts hanno questa cosa che io invidio molto loro, riescono a dire le paure chiamandole proprio per nome, cioè è una cosa seria, non stanno smiluendole, però poi riescono a trovare quello scarto, quell'attimo, quel momento in cui nonostante la pesantezza della realtà si può tranquillamente vivere, ce la possiamo fare. Ed è vero, volentieri cito i Peanuts, ho trasmesso questa passione involontariamente anche ai miei figli e tra l'altro ho scoperto in età adulta che Schultz, ecco potrebbe essere l'ottantunesima storia quella di Schultz, il disegnatore dei Peanuts di realtà è stato anche per un certo periodo della sua vita un predicatore evangelico, conosceva benissimo la Bibbia, infatti nei suoi fumetti lì non sogni tanto la cita e addirittura ci sono alcuni teologi che hanno scritto libri a partire dai Peanuts. Quindi insomma, come dire, certe cose vanno cercate anche al di fuori dei nostri ambiti e questa sua citazione credo calzi proprio a pennello. Mi piace anche un'altra particolarità del libro che il lettore viene lasciato libero di scegliere in che ordine leggere le storie, se è in ordine sequenziale oppure lasciandosi ispirare dal titolo oppure aprendo a caso il libro. Scelta anche questa dettata da qualcosa in particolare? Anche qui parto dall'autobiografia. Sono un lettore un po' anarchico, a volte leggo i libri non nell'ordine e trovo che questa cosa sia uno dei modi in cui si può leggere. Poi uno molto più bravo di me è un romanziere francese che si chiama Pennac, ha detto in un bellissimo suo libro che si chiama Come un romanzo, che è diritto del lettore scegliere qual è l'ordine del libro. Ovviamente ci sono libri che è più difficile non leggere in ordine, guerra e pace è difficile leggerlo saltando sempre per citare Snoopy le pagine. Ho pensato a un libro che potesse essere usato, non a un libro che intimorisca, non a un libro che spaventi, ma un libro che funzioni proprio come una cassetta di attrezzi, una cassetta di medicinali, una scatola di cioccolatini. Uno va e a volte c'è il momento in cui gli fa comodo una, a volte gli ne fa comodo un'altra. Questo è un po' uno dei criteri proprio perché abbiamo bisogno di grandi narrazioni. Io non sono ancora in grado di farne, ma penso che anche piccole narrazioni, anche un utilizzo del tempo il più possibile congeniale ai nostri ritmi sia qualcosa da praticare. Viviamo tutti anche adesso che siamo iperconnessi quasi mai senza avere abbastanza tempo per fare niente. Allora un libro che puoi prendere, rimettere, usare, puoi lasciare lì, mi sembrava una cosa che potesse essere funzionale a questi nostri giorni così strani e complicati. Ecco, giorni strani e complicati. Vorrei concludere facendole una domanda che però non ho previsto nella nostra scaletta, che esula un po' dai libri, dalla scrittura, che però ho posto ai diversi autori e scrittori che sono stati ospiti in questa mini rubrica. Questa pandemia alla fine ci renderà davvero migliori? Resteremo così come eravamo all'inizio o ahimè sta già facendo emergere il peggio di ciascuno? A suo modesto parere. Guardi, davvero una domanda da 10 milioni di dollari. Una cosa ti la posso dire, non ci lascerà come prima. Francesco in Fratelli Tutti, non mi ricordo se al numero 11-12, da quelle parti proprio all'inizio, a un certo punto dice che questa pandemia ha mostrato molte cose che già c'erano e semplicemente non volevamo vedere. E dice proprio quasi testualmente, cito braccio, chi pensa che l'unica cosa da fare sia fare meglio quello che facevamo prima o aspettare che passi per tornare a fare quello che facevamo prima è fuori dalla realtà. Questa espressione è proprio letterale. Allora, non lo so come ne usciremo. Sicuramente ne usciremo cambiati. Lei diceva prima che lo sguardo esterno ai nostri ambiti, ma sai, i cristiani pensano che lo Spirito Santo soffia un po' dove vuole. Quindi questa pandemia sicuramente ci cambierà, ci sta già cambiando e ci vuole probabilmente un sforzo di ascesi e anche di sapienza nel avere la pazienza di vedere quello che sta cambiando, nel vigilare sulle cose che stanno cambiando in meglio. Ad esempio io faccio scuola, moltissimo si è perduto della scuola a distanza, è veramente doloroso fare scuola a distanza, ma stanno nascendo delle piccole cose, per esempio la libertà che hanno gli studenti durante la lezione di girovagare e magari andare e tornare dalla lezione arricchendola o la nuova grammatica che usiamo nel parlarci. Paradossalmente è più difficile che si parlino uno sopra l'altro a distanza che in presenza. Allora, non so se usciremo, sicuramente non usciremo uguali, questo no. Penso che uno dei compiti anche della Chiesa dei Cristiani, non solo loro, ma il loro specifico, sia quello di vigilare su quello che è già cambiato e riconoscere che quello che è già cambiato non può essere sempre soltanto male, ci deve essere qualcosa di buono, altrimenti Dio non ce l'avrebbe permesso. La ringrazio per questa riflessione, è stata una domanda che non era prevista in scaletta ma un po' egoista per quanto mi riguarda perché attingo sempre riflessioni e spunti molto interessanti da quello che dicono gli ospiti, scrittori e autori che intervengono in questo breve spazio. Io ricordo nuovamente il titolo del libro di Marco Ronconi, è fatta editrice, 80 piccole storie di Chiesa che non puoi non conoscere. Vedete la copertina, l'avete vista anche durante la nostra chiacchierata. Grazie ancora per essere stato con noi e perché no, al prossimo libro, alla prossima pubblicazione. Grazie, grazie davvero. Buona giornata, a presto.